Bisogna fare una grande riforma fiscale che sia non se banalmente semplicemente una operazione di giustizia sociale di cui poi ci sarebbe bisogno, ma apprendere una lezione che in tutti i paesi del mondo ha dimostrato di funzionare. La ricchezza per crescere deve essere distribuita. Se la ricchezza si concentra in poche mani, non cresce in un'economia di mercato.